Siccome Renzi ha auspicato, magari immagino che si sia in ossa, abbia sentito il Parlamento, dentro questo Parlamento non c'è nessuna maggioranza che fosse, se lui presenta una mozione sul messo in questo momento, non credo che sarebbe trovata, e poi non ha nulla a che vedere con il ricordo. Sono due cose completamente diverse, francamente può essere, se uno poi vuole trovare sempre tre teste, non ha qualcosa.